Musica Ci troviamo a pochi passi al centro storico di Roma, all'Hotel de Rossi Wellness Zone. Oggi andremo alla scoperta del nostro centro benessere. Seguitemi! Musica Qui a Wellness Zone ci prendiamo cura anche dei capelli dei nostri clienti. Quindi abbiamo un air corner dove i nostri parrucchieri si occupano completamente di voi. Musica Vi presento ora la nostra area spa dove c'è una grande vasca idromassaggio con acqua calda e salata, sauna e bagno turco. Musica Eccoci nella nostra area fitness dotata di tutti i macchinari più moderni per la cura del corpo. Musica 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 Musica